Diciamo, intanzitutto vi ringrazio per avermi interpellato e diciamo che le considerazioni che possiamo fare in questo momento riguardano un decreto che dà misure di intervento relativamente ai versamenti, alle scadenze, ai bonus e agli incentivi e sotto l'aspetto finanziario per le imprese. Quindi sono tre i perimetri e aggiungerei anche un quarto che poi se ne occuperà il collega, il dottor Gabriele Bigonzi che è consulente del lavoro che riguarda appunto il sistema lavoro, le casse integrazioni e i bonus per i dipendenti. Diciamo che linea di massima 25 miliardi sono, poi l'hanno anche rettificato ieri il Presidente del Consiglio, l'hanno chiamato non più decreto cura Italia ma il decreto marzo perché con 25 miliardi era il minimo che il Governo potesse fare per l'Italia quando altri paesi, non so con quali meccanismi, hanno stanziato centinaia di miliardi di euro e così ci fanno in un certo qual senso far apparire come coloro che vanno a combattere col fucile a tappi mentre gli altri hanno il bazooka. Però adesso bando a questi discorsi io andrei a vedere quali sono, giusto per tradurli anche in un linguaggio semplice anche per chi ci ascolta, i quattro perimetri di cui stiamo parlando. Il primo per quanto riguarda i versamenti, riguarda le scadenze fiscali e dobbiamo dire che tutte le scadenze fiscali che scadevano il 16 di marzo sono prorogate per chi ha un fatturato sotto i 2 miliardi, scusate i 2 milioni di euro nell'anno precedente, nell'anno 2019, sono prorogate al 31 maggio e sono le scadenze fiscali e contributive, sto parlando. Mentre chi è sopra i 2 milioni di euro dal 16 di marzo sono prorogate solo di 4 giorni al 20 di marzo. A chi scadranno invece, come dicevo, chi è sotto i 2 milioni di volume d'affari al 31 di maggio possono poi al 31 di maggio o pagarle in un'unica soluzione o rateizzarle. Per quanto riguarda poi dei settori praticamente che sono maggiormente colpiti, qui non c'è limite dei 2 milioni sopra o dei 2 milioni sotto. Questi hanno un blocco delle scadenze fino al 31 maggio compreso e la possono pagare in un'unica soluzione o in 5 soluzioni senza interessi e riguardano appunto i settori interessati, sono il settore turistico alberghiero, il termale, i trasporti, i passeggeri, i ristoranti, i bar, i cinema, i teatri, sport, le istruzioni, i parchi di divertimento e quant'altro. Quindi non è provista data per questi settori. Per quanto riguarda poi le proroghe degli adempimenti, ci sono proroghe che vengono date al 30 di giugno per quanto riguarda le liquidazioni IVA periodiche, la dichiarazione annuale, gli intra, i modelli di certificazione uniche, le CU famose. Per quanto riguarda poi anche le sospensioni dell'attività di controllo degli accettamenti da parte dell'agenzia delle entrate, dobbiamo dire che sono sospese fino al 31 di maggio tutte le attività di accertamento da parte dell'agenzia delle entrate relativamente alle attività appunto di vigilanza e così anche i versamenti per quanto riguarda la riscossione che l'agenzia delle entrate fa nei confronti dei contribuenti e che potranno pagare in unica soluzione entro il 31 di maggio e quindi che slitta poi al primo di giugno successivo. L'altro perimetro riguarda i bonus e gli incentivi. I bonus e gli incentivi sono praticamente cosa viene dato ai cittadini e voglio fare anche una precisazione che siamo in attesa del decreto legge. Io non credo che il decreto legge abbia misure di attuazione quindi il decreto legge sarà quello che dice che verranno dati poi ci vorranno dei decreti attuativi, dei decreti ministeriali per attuare questi incentivi che vengono dati. Quindi come si farà avere questo incentivo? Perché tutti ti chiederanno ma io come faccio ad avere il bonus sulla babysitter? Bisogna aspettare le norme di attuazione quindi speriamo che siano anche veloci. Comunque al di là di questo i bonus incentivi vengono dati il credito d'imposta per le attività artigliani ed impresa riguardo appunto la significazione degli ambienti e le attività di sanificazione che hanno fatto per le regolazioni liberali con ovviamente fino al massimo del 30% con un massimo con valore non superiore ai 30.000 euro e poi sono deducibili quindi dal reddito d'impresa. Poi ci sta un indennizzo, un bonus di 600 euro che è per i lavoratori autonomi e le partite IVE. Quindi questo penso che riguardi solo questo ma ancora non è chiaro e non i professionisti iscritti alle casse tipo gli avvocati, i commercialisti, gli ingegneri perché questo ci deve ripensare penso alle proprie casse private perché ad esempio io sono un commercialista, noi abbiamo la nostra cassa privata. Poi ci sarà un premio per il lavoro svolto in sede anziché lo smart working. Oggi anche la nostra struttura ha attivato tutte le postazioni in remoto, abbiamo remotizzato il lavoro però c'erano le persone che vogliono venire a lavorare o comunque che prima che noi attivassimo lo smart working sono venute a lavorare e quindi di conseguenza a questo fatto hanno diritto a un premio di 100 euro per il mese di marzo che non sarà tassato, verrà messo in più nella busta paga, quindi un chip messo dal governo. Bonus babysitter infine dico per quanto riguarda i figli di età inferiore a 12 anni o per quelli che sono disabili e anche qui il bonus andrà da 600 euro a 1000 euro ma stiamo aspettando le norme di attuazione. Differimento poi al termine lungo di 180 giorni per l'approvazione del bilancio delle società di capitali. Ultima cosa che dico poi lascio la parola al dottor Vigonzi per il lavoro riguardano i provvedimenti finanziari. Le aziende fino adesso abbiamo visto che un po' di cassa se la possono fare con la sospensione dei termini che poi abbiamo visto non è una gran sospensione perché sono per 2 milioni di 4 giorni e per gli altri di due mesi. Allora ci sarà necessità che lo Stato intervenga con la ricopertura presso la cassa depositi prestiti e le garanzie da dare alle banche locali e alle banche del territorio nazionale per far sì che ci sia la renegoziazione, la sospensione e la moratoria dei mutui, dei leasing e quant'altro. Al momento esiste solo la sospensiva data dal governo per quanto riguarda i mutui sulla prima casa per i lavoratori autonomi e imprenditori se hanno il 33% in meno del fatturato in questo periodo rispetto all'anno precedente. Non dice nulla per i lavoratori dipendenti perché comunque loro sono assistiti dalla cassa integrazione in deroga, da tutte queste cose, quindi loro non dovrebbero avere difficoltà a pagare i mutui così ha ragionato il governo. Poi c'è il cartello che l'Abi già ha fisso dicendo aderite banche, so che la banca di credito cooperativo ha già aderito facendo prestiti per i commercianti e prestiti per il settore del commercio fino a 25 mila euro in quattro anni a decorrere l'ammortamento del primo di gennaio e mi dicevano alla direzione della banca di credito cooperativo che già si è mossa per fare ulteriori prestiti anche imprese e professionisti relativamente appunto a prestiti di sostegno per la liquidità aziendale perché ricordiamoci che quando finirà tutta questa cosa arriverà un'onda di ritorno economica che sarà veramente un day after, quindi il giorno dopo della bomba atomica e quindi avremo bisogno di misure di liquidità non solo del decreto di aprile ma avremo bisogno di sostegno di liquidità anche dalle banche centrali e quindi questa è la cosa fondamentale che mi sento da dire. Quindi le banche devono sostenere anche le garanzie che le aziende possono anche non dare per rinegoziare gli insoluti che hanno avuto, per rinegoziare il mutuo che non sono riusciti a pagare perché non hanno avuto ricavi e tutto quello che ne consegue, perché se mettiamo a sedere in ginocchio le aziende mettiamo a sedere l'occupazione. La bozza del decreto legge Salva Italia che adesso viene chiamato decreto marzo ha previsto la cassa integrazione per tutti i lavoratori dipendenti e questa è una cosa molto importante perché normalmente la cassa integrazione è prevista per le aziende che hanno più di cinque dipendenti. Noi sappiamo che nel nostro territorio abbiamo tantissime aziende piccole, se pensiamo al piccolo bar, ristorante, il negozio, quindi aziende che hanno meno di sei dipendenti sono tantissime. Questi non hanno una copertura di cassa integrazione normalmente. Con questo decreto viene creata una sorta di cassa integrazione speciale chiamata emergenza Covid-19 che va ad assicurare, a coprire anche tutti questi lavoratori. La copertura della cassa integrazione è prevista per un massimo di nove settimane che potremo fare anche con effetto retrattivo dal 23 febbraio in poi. Avremo tutto il tempo per fare queste domande di cassa integrazione perché avremo tempo quattro mesi da adesso per poterle fare. Questa cassa integrazione dicevamo può coprire un massimo di nove settimane, avremo tempo quattro mesi per fare la domanda, quindi avremo tutto il tempo per farlo, potremo tornare indietro fino al 23 febbraio e ad oggi per tutte le aziende che hanno più di cinque dipendenti ci sono già le istruzioni per poter iniziare a fare queste pratiche, mentre per le aziende che hanno meno di sei dipendenti dovremo attendere gli accordi della regione Marche che ci diranno come farla, come presentarla e tutte le modalità. Questo per quanto riguarda la cassa integrazione. In particolare ci sono due tipi di congedo parentale, due tipi perché uno è retribuito e l'altro no. Per tutti coloro che hanno dei figli che hanno un'età inferiore a 12 anni e entrambi i genitori sono al lavoro si può chiedere un congedo di 15 giorni retribuito al 50%. Diversamente si può chiedere anche un congedo facoltativo ma non retribuito per tutti coloro che hanno dei figli che hanno un'età massimo di 16 anni e che entrambi i genitori sono al lavoro e quindi la facoltà di poter rimanere a casa con i figli per tutto il tempo in cui saranno chiuse le scuole. Oltre a questo è stato ampliato il numero delle giornate di permesso per la legge 104 per tutti coloro che hanno un handicap grave portando da tre giorni a un massimo di 15 giorni sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile. Da ultimo c'è un contributo per tutti i lavoratori dipendenti che nel mese di marzo non hanno potuto fare smart working e quindi sono al lavoro, nel loro posto di lavoro. Per tutti questi ci sarà la possibilità di avere 100 euro esente da tasse rapportato al periodo di lavoro del mese di marzo.